Tanta commozione perché tanto è stato l'affetto, quindi quando termini un'esperienza in un posto che ti rimarrà sempre nel cuore, a meno che un automa non si può non commuoversi e soprattutto palesare la propria vicinanza a un territorio, a una squadra che ha funzionato, lavorato, ma soprattutto è riuscita a mantenere il sorriso, la forza e la determinazione. Si va a Crotone adesso? Si, si va a Crotone in uno scenario diverso da quello che è la costa terramana, ma la costa terramana comunque ha le sue peculiarità, quindi ogni posto è diverso ma nessun posto è secondario. Addio, è sempre tempo di bilanci, che Capitanele di Porto lascia? Io lascio un equipaggio sereno, coeso, ci siamo impegnati a 360 gradi sia sulla portualità, sia sulle attività operative di tutela ambientale, di preservazione degli stock ittici e quindi di conservazione di tutte quelle risorse naturali e soprattutto della salvaguardia della vita umana in mare, che è il nostro compito principale durante il discorso, l'ho evidenziato, in mare nessuno deve essere mai lasciato solo. Grazie. Grazie.